L'Università di Stanford è considerata una delle prime al mondo nel campo del paranormale e nello studio delle percezioni extrasensoriali ESP. Sin dal lontano 1911, il professor John Edgar Coover ha iniziato a condurre esperimenti straordinari, come ad esempio il famoso cucchiaio Bender e la capacità di piegare il ferro con la forza del pensiero. Queste ricerche continuano ancora oggi in maniera non ufficiale. Nel 1935, due ricercatori dell'Università di Duke, dopo una lezione tenuta da Sir Conandol sulla possibilità di comunicare con i morti, hanno deciso di fondare una disciplina fondata sullo studio critico della percezione sensoriale. Da molti anni, all'interno del seminterrato dell'Università di Princeton, si svolgono esperimenti e studi sulle attività paranormali, ottenendo diversi successi. In molti credono alla possibilità di fenomeni paranormali all'interno di questo Ateneo. Ad Harvard, gli scienziati si concentrano invece su fenomeni che smentiscono le attività paranormali e, per il momento, sembrano riuscirci. L'Università della Virginia si focalizza sul fenomeno della reincarnazione. Il laboratorio diretto dal dottor Ian Stevenson, sin dal 1967, ha svolto un ruolo molto attivo in questo senso. All'Università dell'Arizona sono stati promossi due importanti progetti per esplorare la possibilità che la mente umana sopravviva all'esperienza della morte fisica. Il programma, chiamato Sofia, è ancora in corso. Per 10 anni, l'Università di Los Angeles si è concentrata sulla ricerca sul paranormale, studiando chiaroveggenza, telepatia e case infestate. Tuttavia, il progetto è stato successivamente abbandonato dopo tanto clamore mediatico. Da quattro anni, l'Università di Cornell ha lanciato un programma specifico sulla ricognizione che ha coinvolto più di mille persone, ottenendo risultati incredibilmente positivi. L'esperimento di Berna ha permesso di spiegare concetti particolari, indicando che la mente sia in grado di prevedere eventi futuri grazie al pensiero retroattivo. Già dal 1985, l'Università di Edimburgo ha istituito una cattedra in parapsicologia nel Dipartimento di Psicologia, distinguendosi per il suo approccio multidisciplinare. Dal 2010, l'analisi e la ricerca sono state anche sviluppate utilizzando Twitter. All'Università di Londra, con il Telepathy Test dell'APRU, si tengono uno degli esperimenti più interessanti. Gli studi si concentrano su casi quotidiani, come ad esempio la coincidenza di ricevere una chiamata da qualcuno che hai appena pensato. Si indaga quindi se si tratti di coincidenza o di fenomeni psichici come la telepatia o la precognizione. Grazie a tutti.